Quelle a cui siamo abituati, adesso sta entrando un'altra squadra Sta entrando la Svizzera No, la Svizzera, adesso ti racconto, la Svizzera è una ginnasta che oltretutto era titolare in tutti e due gli attrezzi Sta male La Spagna, scusate, infatti questa è la Spagna Infatti la Svizzera non partecipa proprio, partecipa solo con l'attrezzo di domani, ha avuto questo permesso di poterlo fare Parteciperà solo a cerchie perché non è riuscito purtroppo a sostituire in tutti e due gli esercizi quello che era avanti La Svizzera La Svizzera, adesso qui La Svizzera, adesso qui La Svizzera, adesso qui Per questo scandalo sarà avanti. Per questo Oltre a quell'orrore, non mi permetterei mai di dire che è un brutto esercizio perché non lo è, però non ha quello, adesso che è finito non c'è un momento di particolare attenzione, nel senso è un esercizio con parecchie collaborazioni anche difficili, però non prenderanno un brutto punteggio perché non è che c'è scritto bisogna ricordarselo nel tempo però sicuramente dal punto di vista...